Il treno dei play-off va a passo spedito e la Nissa non può più permettersi distrazioni se vuole centrare l'obiettivo degli spareggi per la promozione in Serie D. Domenica, al Virciglio di Campofranco, un'altra tappa importante. Arriva il Mazzara, squadra guidata dall'ex tecnico del Gela in Serie C, domenicali. Una formazione imbottita di giocatori di qualità che si è notevolmente rafforzata nell'ultima finestra di mercato, ma che dovrà affrontare la Nissa con una formazione decimata dalle squalifiche. Sarà assente anche il giocatore di maggior pregio della squadra, il tunisino Sami Elmarui, appiedato dal giudice sportivo per somma di ammunizioni. Insomma, per la Nissa si presenta l'ennesima ghiotto occasione per fare bottino pieno dopo la larga vittoria ottenuta domenica scorsa sul campo di Paceco contro il derelitto Marsala. Gli uomini di Bognanni, distaccati di tre punti dal quinto posto, non possono dunque mancare l'appuntamento con la vittoria. Il tecnico buterese avrà a disposizione la rosa al gran completo. Pienamente recuperato anche il forte difensore centrale senegalesio Mardiop, si è allenato tutta la settimana con il gruppo, anche l'esterno offensivo Danca, reduce da uno stiramento che lo ha tenuto fermo più di un mese. Confermatissimo il centrocampista francese Camarà, in avanti è sempre ballottaggio per l'uomo da affiancare al bomber Mattia Retucci, tra il gelese Pardo e l'uruguaiano Guillermo Rizzi. Bognanni sembra comunque orientato a schierare dall'inizio proprio l'uruguaiano perché Pardo, entrato sempre a partita in corso, ha dimostrato nelle ultime gare di essere in grado di spaccare la partita, di andare in gol. Obbligatorio dunque conquistare i tre punti anche perché il calendario della Nista adesso sembra più agevole delle squadre che stanno davanti, tutte impegnate in scontri diretti.